ciao come stai nome maria uso mariano potrei usare anche il tuo perché tanto si sa in tantissime no però usiamo questo maria così evitiamo problemi ho letto la tua mail tante alcune se vado in ritardo quindi io capisco quando quel formatore quella quell'esperto che dice acquisti questo oppure non non ti do io non ti posso dare supporto perché arrivano diverse molte mail alcune non ce la fai fisicamente per il tempo a rispondere però la tua è piaciuta molto e credo che sia ti rispondo perché credo che tu possa fare molto per recuperare la situazione perché sono passate solo due settimane e dalla dinamica che mi hai spiegato ci sono dei fattori che giocano a vantaggio tuo ti dico per te e per chi magari guarderà un domani questo video faccio un piccolo riassunto della tua storia e poi ti dico quello che farei tu hai fatto delle proposte in merito a soluzioni ma io non te le consiglio ti spiego quello che farei io poi tu scegli la strada migliore no però ti voglio spiegare la mia prospettiva da da uomo e un po da da una persona che ha visto diverse dinamiche in questi anni di relazioni mi sono preso degli appunti come vedi ok ho letto attentamente degli appunti riassuntivi sono che tu questa storia è durata sei anni è stata la prima storia importante per entrambi non avete maledicato tu dici non vi siete mai traditi ok su questo metto un punto interrogativo no probabilmente sarà così non voglio mettere dubbi però tu puoi dire solamente quello che tu vivi in prima persona quelli che fanno gli altri non lo sai no come la storia della pizzeria che non sapevi perché non te l'avesse detto quindi non vi siete mai traditi gli ultimi anni mi hai detto che sei stata particolarmente gelosa forse perché l'hai attribuito a poca sicurezza o anche alla distanza perché vi siete trasferiti e non ho capito bene qualcuno è andato all'università e questa distanza ha creato dei problemi perché vi vedevate solamente due volte al mese e due settimane fa ti dice che ha conosciuto un'altra ragazza e poi ti dice guarda io non ti vorrei perdere vorrei che tra di noi ci fosse l'amicizia e ti dice che con te avrebbe tradito anche la nuova partner e poi tu hai deciso di prendere una pausa e non sentirlo più perché vi whatsappavate spesso perché magari vi vedevate perché c'era comunque ancora questa attrazione, questa intimità, questi baci, queste carezze magari che finiva anche con sesso questa cosa ecco in questo modo ti do una visione, la mia visione riassuntiva di quello che tu mi hai raccontato un po' per dare a chi ci ascolta un'idea, un'idea di qual è la situazione magari se ritrovano in questa situazione quello che condivido con te potrebbe essere d'aiuto anche per loro cosa farei? tu mi chiedi ok Riccardo cosa faresti? ci sono delle cose che mi sono piaciute la prima è che la relazione si è conclusa da poco che sta a vantaggio la due è la dimostrazione che lui ancora sia molto attento a te che ti cerchi, che ti dica che ti voglia con l'amica, che non ti voglia perdere e sebbene tu dica che vuoi interrompere questa no? che tu sei stata in una settimana di silenzio da whatsapp non hai risposto perché non volevi che lui si sentisse così sicuro di avere due donne a disposizione io ti dico che non è la cosa migliore da fare tu non sei più la sua ragazza questo è il punto di partenza non puoi pensare come se fossi la sua ragazza devi cambiare l'impostazione quindi se tu sei in buoni rapporti tienili questi buoni rapporti perché saranno il punto di partenza che ti permetteranno di recuperare la relazione io credo che tu possa giocartela nessuno, non è una formula matematica non posso dirti sì ce la farai però io credo che tu abbia molte possibilità per giocartela e come me la giocherei io? me la giocherai in tre modi e in due fasi ok, mettiamola così me la giocherai in due fasi la prima fase è costituita da tre step tre passaggi parliamo della prima fase adesso la prima fase la metti in campo fino ad ora la prima cosa che devi fare è continuare a mantenere l'amicizia con lui questo è importante non devi rompere il legame lui vuole l'amicizia tu adesso dagli l'amicizia tu dagli l'amicizia continua a parlare con lui esci con lui ascoltalo, una cosa importante ascoltalo lui con te deve stare bene perché se io ho due donne quando scelgo scelgo quella con cui sto meglio come? dal punto di vista sessuale mentale divertimento non lo so però la finalità tua la finalità tua è che lui stia bene probabilmente per un motivo o l'altro lui ha pesato te e l'altra e ha scelto l'altra ok? quindi tu devi recuperare questo svantaggio quindi non perdere il contatto esci con lui e cerca di star bene farlo star bene che lui stia bene con te che passi quell'ora insieme a te e se la passi alla grande l'unica cosa che eviterei è far sesso con lui perché questa cosa crea una dipendenza a te quando tu fai sesso con lui hai una produzione di ossitocina molto pronunciata molto evidente che ti crea una forte dipendenza da lui da questa persona e quindi eviterei di far sesso con lui e perché anche tu in questo modo hai un pochino di potere no? hai un pochino di potere nei suoi confronti quindi prima cosa da fare della prima fase continua a mantenere l'amicizia vai a vederlo parlaci whatsappaci evita di far sesso e quando vai a vederlo quando vi incontrate devi essere bella devi essere bella vestirti bene lui ti deve vedere devi pensare wow cosa mi perdo fisicamente parlare con te e dire wow cosa mi perdo non poter stare con lei e parlare con lei e devi essere profumata ok? ti metti profumi queste sono le cose che farei prima cosa poi quando quando state là e parlate cerca di evitare discorsi relativi alla relazione che è finita evita discorsi che siano tristi e nostalgici ok? lui ha preso un'altra strada ha preso questa decisione ok? tu considerala un capitolo finito e evita di tornare a parlare di questo fai vedere che come lui ha deciso che è finito lo sarà anche per te lui in questo momento ha un vantaggio lui ha preso una decisione non sarà la tua disperazione il tuo piangere il tuo raccontare quanto stavate bene insieme a farlo tornare questo te lo garantisco lui già ci ha pensato se tu carrivi dopo quindi tu evita di ricordare il passato vivi il presente tu lo stai riconquistando evita di ricordare il passato la tristezza la nostalgia ok? evita tutto questo e la terza fase il terzo passaggio della prima fase è comincia a pubblicare se tu sai che lui è social e siete amici tu cominci a pubblicare foto tue dove tu ti metti in mostra io dico ti vendi un po' perché quando una donna o un uomo a meno che non lo faccia poi per lavoro però quando una donna o un uomo comincia a pubblicare foto sue belle foto sue è perché magari si è rimesso sul mercato e come ti vedono altri uomini ti vedrà lui essendo una cosa molto fresca questa vostra separazione lui è ancora geloso di te dopo sei anni lui ha ancora questo senso del possesso su di te e se vede che tu gli stai scappando dal controllo allora lui comincia a preoccuparsi perché lui vuole questa doppia relazione lui ti dice voglio rimanere in amicizia con te voglio tradirei la mia ragazza con te proprio per questo perché lui ancora non è sicuro del passo che sta facendo di andare con quell'altra ragazza te ti conosce da sei anni sa come sei fatta sa tutto di te l'altra è un'incognita quindi lui è in questa fase di passaggio ed è per questo che vuole rimanere in buoni rapporti con te perché non è ancora certo tu dagli quello che vuole però fai di vedere che anche tu sei sul mercato che anche tu stai cercando altro scatta belle foto tu e tu hai detto sono una ragazza piacente ok fammelo vedere che se è così fallo vedere agli altri e lui sicuramente si ingelosirà ok dopo un mese io a quel punto proverei dovresti vedere come reagisce e a quel punto proverei a mandare quella quel messaggio quel whatsapp dove gli dici guarda è vero probabilmente mi dispiace che la nostra storia sia finita ma forse doveva andare così sono contento che sia rimasta questa amicizia però sono contento perché anche a me mi sono aperte nuove possibilità e cose nuove cose belle e sono convinto che lui in quel momento capirà che ti sta perdendo allora forse lì potrà fare un passo ok però questa qua della lettera o del whatsapp è la seconda fase quindi la prima fase sono tre step mantieni l'amicizia non parlare del passato e condividi foto tu online dove sei irresistibile seconda fase dopo un mese mandagli questo whatsapp dove gli scrivi questo che fai capire ok sto prendendo una nuova direzione l'unica cosa che gli devi togliere è il sesso togli il sesso e vediamo se può essere un'arma a tuo vantaggio più o meno per quello che tu mi hai detto questo è il consiglio da esterno leggendo una mail comunque lunga che ti potrei dare la mia opinione quello che secondo me funziona io ti auguro di cuore di poter risolvere questa relazione che tu stia bene ricordati questo l'importante sei tu tu devi star bene cerca di star bene tu e attirerai lui e tantissime altre persone stai bene con te stessa vai a correre ne dico sempre fate due cose fate attività sportiva fate attività sportiva e quindi correte mettete in moto il vostro corpo e la sera mettiti là e un mezz'ora al giorno scrivi scrivi qualche cosa in modo che ti concentri e dai forma ai tuoi pensieri devi star bene quando tu stai bene diventi una calamita per tante persone anche per lui d'accordo ti auguro di cuore il meglio un abbraccio ciao 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 ciao